Questo podcast è una dedica a tutti quelli che comunque seguono questa realtà ed è quasi un audio di scuse perché comunque ultimamente sto facendo tanta roba che mi conviene perché ho subito un torto pesante, sulle piattaforme ufficiali sono ripartito da zero e quindi giustamente mi devo muovere per tornare anche diciamo ai vertici e quindi ci tenevo a fare un podcast un attimo in cui si tornava in un concept, in un loop di senza tempo questo è un podcast senza tempo come la canzone di cui sto per parlare perché comunque non sarà il buio a far dormire la mia anima l'inizio di una canzone storica perché qualche anno fa non erano tantissime le canzoni che comunque erano disponibili sul web, tra youtube e tra emule ma questa è un'altra storia e tra queste non poteva mancare quel dolcissimo pianoforte tratti che durava mi pare un minuto e passa che anticipava una delle più belle poesie del rap di quegli anni e Nestle era il poeta del rap famoso alle masse magari come il fratello di Fabri Fibra ma famoso nei cuori inquieti come uno dei più grandi autori di brani perché ha fatto delle canzoni meravigliose, veramente bellissime quando uscì Nestleaving volume 2, il disco della fine per intenderci lui lo anticipò con un video di una canzone fragile che parlava proprio, citava parole da dedicarmi al ritornello, stavolta cantato facendo diciamo intendere il cambiamento di stile quindi comunque che andava verso il cantato ma comunque rimaneva sempre lo stesso a livello di anima a livello emotivo e infatti quel disco per me è il capolavoro di Nestle perché racchiude appunto tutto sia la sua verve da cantautore che forse è anche la migliore per lui forse ancora più del rap, riesce a esprimersi meglio ma mantiene diciamo i contenuti appunto del passato perché Nestle è un po' caduto quando ha iniziato a cantare cose differenti diciamo inni alla vita esagerati, un po' banali canzoni d'amore che si potevano evitare ma quando Nestle è stato se stesso sia dal punto di vista di quello che voleva raccontare e sia dal punto di vista stilistico perché comunque non stiamo parlando di un fenomeno del rap stiamo parlando di un poeta del rap che ha portato la sua poesia in una forma 2.0 e il disco è stato perfetto grande successo ogni canzone, io sono legato ad ogni canzone di quel disco ma parole da dedicarmi resta la massima espressione di quest'autore perché comunque la forma stilistica del cantato ti porta comunque a essere più ermetico che è anche più bello ma in quel caso invece c'era il rap quindi c'era la strofa, c'era l'espressione c'era l'esigenza ragazzi Nestle è uno che ha prodotto tutte le strumentali di Mister Simpatia Nestle è uno che senza Nestle non c'era fibra questo è poco ma sicuro non è che c'è fibra avrebbe fatto alta sarebbe stato un altro fibra ma comunque Nestle è un pezzo predominante nella carriera di Fabrizio Darducci appunto perché ha prodotto Mister Simpatia che è il disco che l'ha portato in alto perché poi è stato ripreso la major ha deciso di capito? quindi di conseguenza c'è l'animo da rap negativo diciamo dentro di lui ma lui ha fatto delle scelte diverse e in questa canzone ci mostra proprio i suoi sentimenti più sinceri i suoi sentimenti più puri lo fa con con spensieratezza con leggerezza appunto vedi il mare non solo per quei suoni che lui inserisce appunto da amare ma proprio da amare e da amare ma proprio perché lui ti descrive è la libertà quando avrai parole da dedicarmi le mie paure avranno il tuo sapore che questa invece è la versione originale con una strumentale diversa edita di un brano famoso e quindi di conseguenza poi l'ha cambiata ed è diventata la versione che conosciamo tutti ma nella versione originale quindi c'è un'altra versione ancora ed è ogni frase ben calibrata ogni frase poetica ed è perfetta soprattutto per quello che per quelli che erano i tempi era tutto in un equilibrio unico e qui parliamo di milioni di views in un'epoca in cui non esisteva youtube in un'epoca in cui non esisteva niente questa roba era solo per chi la conosceva la cercava e la desiderava davvero e arrivava arrivava dritta Nesli tra l'altro anche le verità nascoste un gran disco un gran disco le verità nascoste ci sono tante bellissime canzoni vita sana marijuana e niente dramma le slam l'altro diciamo però ecco quello che è stato Nesli Diego di Home credo che veramente non non lo potremmo mai eguagliare perché sono cambiati i tempi in un modo che se uscisse oggi non sarebbe la stessa cosa ma uscito in quel periodo poi io l'ho vissuto da adolescente io facevo il liceo ho fatto un anno di liceo poi sono andato all'ITIS e queste canzoni mi ricordano proprio l'inquietudine la sofferenza il sentirmi sbagliato la colpa di quell'anno di liceo e quanto hanno addolcito quei giorni diciamo queste canzoni io sarò sempre grato a Nesli sempre e gli auguro veramente di ripartire alla grande perché artisticamente lo merita deve solo ricordarsi chi è l'escrizione